se li va troppo io stai a camminare di brutto proprio, dà proprio gusto è bello, è bello da vedere la temperatura? e mo finchè non gara niente e un po' d'aria anche per noi è esatto l'as že davo fri però io ora sto aglomendando a casa stiamo raffreddando un brocolino questo è mezzo giro perchè hai messo la regala? perchè hai messo la regala è messo è messo il brocolino attento cambio e' messo il brocolino è messo il brocolino per quanto va piano? se non parlo tanto ma sta un po' con il centrale io penso pure la macchina la stai a sprecare un po' di pubblicità ma un brillante rimorso quando finisce il turno veste divolo, veste fatto niente tutti i voli sottosterzo? è stata sverniciata no, sta andando a piano sono 4 frecce questa è una S ho trovato che fa quando c'è un bel po' di sordi Marcello prima pista? no, no, una bella pista personale proprio solo io che mi pare a me, guarda senti, senti una bestia ma questo è un pericolo comunque questo è pericoloso fia, corri se devi correre stai in pista figlio eh, guarda che attrezzo che è su là come una verde è stata sattana ah, insomma che fanno ah, insomma che facciamo stiamo andando da carrera l'endà facciamo raffreddare un po' i freni motore come le facce vanno così queste saxone? Perché non pesano un ghezzo e c'è un'olore che cammina Tutto è sempre soggio Adesso è fattenza dietro No, vantavate, io vado No, vantavate No, vantavate No, vantavate No, vantavate Dietro c'è il 350Z che sta pure lui che ha fatto frecce Vedi quanto cosce Lo mettiamo sopra così esce fuori Il camera hanno fatto le difese ma qui era un po' più bello Che è? Eh, guardate qui no? Dove andiamo insomma, a Tori andiamo Stiamo a fare un diretto Sì 50 in l'olio Da quando hai fatto frecce? 30 sotto Che per i tempi Stiamo Paolo dietro, vai, alto su Ci sta raggiungendo di brutto Ho ciappato un po' di giri della Madonna Spero che il nave non è rotto niente La spida il motore non è accesa No, vale Grazie a tutti Grazie a tutti